Allora raga, buongiorno e bentornati a un nuovo video Allora, e... Stamattina, vi dicevo no, che da ieri sera insomma, vi dicevo che oggi dovevo andare dal dottore, ecco Però stamattina quando mi sono svegliata ho guardato fuori, facevo veramente schifo il tempo E... ma veramente tanto? Ecco, sta ancora nevicando addirittura E quindi sì, alla fine non sono andata E quindi dopo che se n'è andata mio cugino, che erano le otto e qualcosa, io mi sono messa a dormire e mi sono svegliata quasi alle 12 Sì, non lo so perché ma... O che è per l'inverno, o non lo so Ultimamente dormo come un ghiro, ecco mi sveglio soprattutto tardi, 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 quindi... Sì E niente, adesso sono Luna Ecco, e prima mi ha scritto su WhatsApp la mia vicina di casa, quello che di solito faccio la babysitter E mi aveva chiesto se per l'una e mezza, insomma fino alle 3 e mezza, 4 Vado a fare la babysitter a sua figlia Iris Che cos'è sto rumore? Boh, sembrava neve che cadeva dal tetto E quindi sì, ho accettato, quindi... Tra mezz'ora devo andare a fare la babysitter E niente, io adesso mi sono vestita, come potete vedere ho la giacca E perché adesso vado fuori con Cioppi prima di andare a fare la babysitter Naturalmente, sì, lo porto adesso fuori perché comunque dormivo la mattina, quindi... E sì, lo porto adesso fuori Non so se dopo vloggerò quando farò la babysitter Perché non so cosa c'è da vloggare in realtà Devo fare anche il pranzo per la Iris Sua mamma mi diceva di fare una pasta col tonno Adesso vediamo perché sinceramente da ieri sera sono rimaste ancora delle cottolette Ecco, quindi io porto giù anche quelle, insomma, non tutte Ecco, però qualche pezzo di cottolette le porto giù Magari vuole delle cottolette Ecco, così non si buttano E niente, dopo parlo con la Iris e vediamo se vuole ancora la pasta E niente raga E noi ci vediamo dopo Ecco Non so esattamente quando Comunque mi sono rimasta ancora due giga di internet E non so come fare a caricare Cioè nel senso oggi sì, mi arrangio Però domani mi sa che vado Vado dall'Anna a caricare quel suo wifi E neanche lì non so a che ora Perché mia cugina diceva che voleva andare a Verona Però se alla fine non va a Verona Ecco Allora andremo a pattinare Ci sarà da ridere Perché è dall'anno scorso che non vado a pattinare Se non anche di più E quindi non tanto capace E niente raga E Io vado E ci sentiamo dopo Ciao ciao Ok raga Allora Sono appena tornata su Ecco Ho finito di portare fuori i cioppi E ho trovato questo pacco Quindi penso che sia quello Penso io che sia arrivato Finalmente Lo speravo con tutto il cuore Che arrivasse oggi Ed è arrivato Quindi adesso andiamo ad aprirlo Insieme Prima che vado a fare la babysitter Anche perché sono le ore Luna E quasi un quarto Quindi ecco Abbiamo giusto il tutto per spacchettare Con la chiave Che non tale niente Ok Ce la sto facendo raga Ok Ve lo faccio vedere Ta da Ok ci sono tutti i test Perfetto Ecco In un pacco solo Bene Ah perché avevo acquistato Mi sembra da solo una persona Quindi ok Allora raga Dentro il pacco Troviamo I test One step In strip No in strip In cassetta Ecco Quindi la cassettina Proprio Ecco Non so se vi ricordate Quando facevo Tanto tempo fa Ecco I test di ovulazione Che c'era anche quelli in cassetta Ecco Quelli là Solo che questi sono test Di gravidanza Ecco Ne ho comprati ben tre Ok Poi ho comprato I first response Aspettate un attimo Perché sono due Ops Veramente Sono quelli Del risultato veloce 45 secondi Però raga Non c'ho un'amnesia Non mi ricordo Di bene comprati due Acquisti Ho pagato 14 euro Ok 14 euro Aia Per sbaglio Ho comprato due Raga Beh 14 euro Raga Quattro test La first response Non è male E infine Clear blue E quello plus Quello digitale Appunto Con Ti fa vedere anche le settimane Ecco Perfetto Mi sono arrivati tutti i test Prima del previsto In un senso Speravo che mi arrivasse oggi Infatti mi è arrivato Perfetto Scatola vuota E quindi niente raga Da lunedì iniziamo con Questi Della one step Ecco Siamo Lunedì all'otto DPO Adesso siamo Al 5 DPO Quindi sì Non vedo la Non vedo l'ora Raga E niente Questi erano i test E E niente E Noi ci vediamo appunto L'unico i test E Incrociamo tutte le dita Ecco E niente raga Un bacione Io Vado Allora raga Siccome ho la Fotocamera scarica Non ha senso che la porto dietro Quindi la metto in carica E noi ci vediamo dopo Che finisco di fare la babysitter Mettimi a fuoco dai Ecco Quindi Baccioni Ok raga Allora Sono appena tornata su Appena finito Sono le 3 44 In questo momento E niente Qua fa un po' buio Per essere quasi le 4 Raga C'è nel senso Non lo so Mi sembra buio E Niente Fuori Nevica Ecco Neveccevi Guardate che roba Già Qui invece Trento Ho sentito che Mezza lagata E praticamente C'è quasi una spanna Di acqua Sulla strada Quindi Sì Wow E niente Qua non è niente A parte neve 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 Soltanto neve Su stufa E niente E niente Io adesso Mi metto a editare Video Ecco E niente Ci sentiamo Dopo Più tardi Tra mezz'oretta Che devo fare Che devo fare merenda Ecco Ciao Cosa fai Ciao papino Ok raga Allora Ho finito di Infiamare Da una parte Allora Ho finito di editare Un video E L'ho già caricato Ecco Vi faccio vedere Ecco E niente Io sono andata Prima a stendere I vestiti Che oggi Ho messo a lavare Una lavatrice E quindi appunto Sono andata a stendere Comunque fuori Non so neanche Se piove O nevico Tutte e due Secondo me Tutte e due Tutto il giorno Che è così Fa la mala pancia Ok raga Allora Ho appena Caricato Il secondo vlog Che appunto Uscirà domani Ecco Questo qui Del primo Di agosto Come potete vedere Appunto È programmato Ecco Pianificato Alle ore due E questo Pianificato Alle ore otto E questi altri Invece Sono tutti Online Perfetto Sono contenta E molto soddisfatta Bene E niente raga Alla fine Non Non andiamo A patinare Perché Lui alla fine Va per una Se le state Che andate Ciao Perché Rompere le palle Ciao Andiamo fuori Ciao Andiamo fuori Andiamo Andiamo fuori Andiamo Su Andiamo dai Seduto Sit down Bravo Capisce anche l'inglese Bene Come on Vieni Hello Come on Come here Come here Cioppi Vieni qua Perla Ok raga Allora Sono fuori con Cioppi Ho messo sempre la giacca Perché insomma Ero di fretta E quindi Sono praticamente Solo con sta maglia E ho freddo E Cioppi non si muove Credo che mi guarderò un po' di tv Se c'è qualcosa Se no Altrimenti Non so che cazzo fare Sinceramente Non so che cazzo fare